Ho firmato avanti ieri una nuova ordinanza per bloccare feste, eventi che producono assembramenti di persone. L'ordinanza che ho firmato stabilisce che a decorrere dal 23 dicembre fino al primo gennaio è fatto divieto di consumo di cibo bevante, alcolici e non alcolici, con esclusione dell'acqua nelle aree pubbliche, qual è l'obiettivo? Evitare gli assembramenti davanti ai pub, ai bar di gente che si mette a consumare alcolici davanti ai locali, provocando assembramenti di persone. Era il minimo, non è la ghigliottina, era il minimo di prudenza e di senso di responsabilità necessario da acquisire. Nei giorni 23, 24 e 25, il 31 dicembre, il primo gennaio, è fatto divieto dalle ore 11 di mattina fino alle 5 del giorno successivo, ai barri e agli altri esercizi di ristorazione, di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche, esclusa l'acqua. Non è un grandissimo sacrificio. L'alternativa alla responsabilità e al contenimento del Covid è la chiusura di tutto. Lo dico con grande serenità, con grande semplicità, ma con grande chiarezza, se perdiamo la testa nella settimana dalla vigilia di Natale a Capodanno, noi perdiamo tutto quello che abbiamo fatto in questi mesi. E ci ritroviamo a metà gennaio a dover richiudere i bar, i ristoranti, le attività che comportano assembramenti, i negozi, le palestre, i cinema, i teatri. Diventerà inevitabile. Ci eravamo abituati al fatto che tutto dovesse rimanere aperto. Tutto rimarrà aperto, magari con qualche limitazione, come quella prevista nella ordinanza regionale, se saremo responsabili. Ovviamente nessuna festa in piazza e meno che mai a Capodanno, perché come sappiamo tutti quanti non è possibile nessuna forma di controllo. lo sapete, no? Capodanno che controlliamo? Migliaia di persone senza mascherina, gente che si passa la bottiglia di birra o di superalcolici e pippe varie. Allora, questa ordinanza regionale ha l'obiettivo di salvaguardare la nostra salute, la nostra economia e le nostre scuole. cerchiamo di essere responsabili.